Datejust senza numeri, il Rolex con un quadrante semplice e pulito. Tra le numerose varianti del Datejust, ce n'è una che si distingue per la sua semplicità e pulizia. Il Datejust senza numeri. Si tratta di una versione del Datejust con un quadrante che non presenta indici numerici, ma solo indici o a bastone o con pietre preziose. Questa scelta conferisce al quadrante un aspetto più ampio e luminoso, che mette in risalto la forma e il colore dello stesso. Il Datejust senza numeri è un orologio che esprime eleganza e raffinatezza. Il Datejust senza numeri è disponibile in diverse combinazioni di materiali, colori e bracciali, che ne ampliano le possibilità di personalizzazione. Per quanto riguarda i materiali, si può scegliere tra acciaio, oro giallo e rosa, Rolesor, la combinazione esclusiva di acciaio e oro di Rolex, il Platino. I colori del quadrante spaziano dal bianco al nero, passando per il blu, lo champagne, l'argento e il rosa. I bracciali sono di tre tipi, Oyster, Jubilee e President. Il movimento è automatico, certificato COSC, controllo ufficiale svizzero dei cronometri, e Superlative Chronometer, un'ulteriore certificazione interna di Rolex. La cassa è impermeabile fino a 100 metri di profondità, grazie alla corona di carica a vite Twinlock e al fondello a vite. La corona Twinlock è un sistema brevettato da Rolex, che consiste in due guarnizioni, una all'interno della corona e una all'interno del tubo della corona. Queste guarnizioni impediscono l'ingresso di acqua e polvere nella cassa, proteggendo il movimento. Il fondello a vite è un altro elemento che contribuisce all'impermeabilità dell'orologio, in quanto è fissato alla cassa mediante una speciale chiave esagonale, che garantisce una chiusura ermetica. Il vetro è in zaffiro antigraffio, dotato della lente Cyclops sulla data, che ne facilita la lettura. La lente Cyclops è una lente di ingrandimento applicata sul vetro, che aumenta la dimensione della data del 2,5 volte, rendendola più visibile. La lunetta può essere liscia o zigrinata, a seconda del materiale e del modello. La lunetta liscia è quella più semplice e classica, che si adatta a tutti i tipi di quadrante e di bracciale. La lunetta zigrinata è quella più ricercata e raffinata, che presenta una serie di scanalature sul bordo, che creano un effetto di luce e di riflessi. Se stai cercando un orologio che sia al tempo stesso classico e moderno, il Datejust senza numeri potrebbe essere la scelta giusta per te.